Musica Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale con la pronuncia dell'extra omnes. Il fuori tutti i 115 cardinali si sono chiusi oggi in conclave nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo pontefice. Nulla di fatto in serata, infatti la fumata è stata nera. L'attesa e tutti gli eventi come nel resto del mondo sono seguiti con grande attenzione anche in Molise. Oggi a Campobasso un momento di preghiera e di raccoglimento nella curia vescovile. Lo Spirito Santo ha invocato l'arcivescovo Bregantini, guiderà i cardinali nella scelta. Sentiamo. Nel pomeriggio l'extra omnes con i 115 cardinali riuniti in conclave nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo pontefice. Fuori il mondo in attesa della fumata bianca e della Bemus Papam. Dopo il primo scrutinio la fumata è stata nera. Nessuno dei porporati ha ottenuto i 77 voti necessari per diventare il successore di Benedetto XVI. Un'elezione storica, quella che ci apprestiamo a vivere con il precedente Papa che si è ritirato e ora è dedito alla preghiera. Un nuovo Papa che dovrà farsi carico di un peso enorme, sia spirituale sia politico. Sarà europeo, americano, bianco o nero, si fanno congetture e ipotesi. Un evento che ha richiamato nella città del Vaticano migliaia di fedeli ai masmedia dell'intero pianeta. Intanto nelle diocesi, come in quella di Campobasso Boiano, ci sono stati momenti di preghiera in concomitanza con la missa pro eligendo pontifice. E al di là delle previsioni e delle congetture su chi sarà Papa dopo Josef Ratzinger, la Chiesa invoca lo Spirito Santo affinché guidi la scelta dei cardinali. Nella Cappella dell'Episcopio, nel capoluogo, anche l'Arcivescovo Bregantini ha pregato. L'extra omnes è un modo antico ma di grandissimo valore spirituale e culturale di dire lasciateci soli, restiamo soli, ascoltiamo la voce di Dio, interroghiamoci nel cuore. E le sorprese del conclave sono sempre state particolarmente avvincenti. Si pensi solo all'elezione di Papa Voitila, nessuno mai l'avrebbe designato. Eppure è in quel conclave, in questo contesto di preghiera, in questa realtà di grande grazia, che si è potuto avere questo dono. Per cui lo Spirito lavora, non si dica che è solo una questione diplomatica, che tutte le cose sono fatte. Non è vero. Le cose non sono mai fatte, sono ipotizzate, gran parte poi vengono scombinate, perché 80 persone che abbiano lo stesso sentire, solo lo Spirito Santo li può compiere in breve tempo. Con Bregantini a pregare anche altri preti e fedeli. Io mi aspetto innanzitutto che sia scelto, non dalle statistiche, ma che sia scelto veramente dallo Spirito Santo, perché possa cambiare la nostra Chiesa. Non che la nostra Chiesa sia andando solo male, però ci vuole in questo momento un Papa che sappia prendere decisioni saggi. Spirituale, non politico. Cambiamo argomento la politica adesso. Antonio Di Pietro molla l'esperienza fatta con Rivoluzione Civile, rilancia l'Italia dei Valori. Faremo il congresso straordinario per eleggere il nuovo segretario, ha dichiarato ma il mio impegno politico non cesserà. Giovanni Minicozzi. Come abbiamo fatto noi di Rivoluzione Civile? Dopo la sonora sconfitta elettorale subita con Rivoluzione Civile, era rimasto con la bocca cucita e si era subito dimesso dall'incarico di Presidente dell'Italia dei Valori, ma il suo atto venne congelato dall'esecutivo nazionale. Oggi Antonio Di Pietro ha rotto il silenzio con una lunga nota inviata agli iscritti e ai diversi organismi del suo partito. Lo ha fatto all'indomani di una tormentata riunione dell'esecutivo nazionale, nel corso della quale Leoluca Orlando ha capeggiato una consistente fonda interna, rientrata solo dopo aver preso decisioni importanti, a cominciare dalla celebrazione del congresso straordinario che si terrà a fine giugno. Il fondatore dell'Italia dei Valori si presenterà dimissionario dall'incarico di Presidente segretario, toglierà il suo nome dal simbolo e proporrà l'elezione di un nuovo segretario politico e di un Presidente. C'è bisogno di un profondo rinnovamento, ha scritto Antonio Di Pietro, ma il mio impegno politico non cesserà. Mi sento rinvigorito da questa voglia collettiva di ricominciare dall'Italia dei Valori. Dunque l'esperienza di rivoluzione civile, costruita insieme a Luigi De Magistris e ad altri soggetti della cosiddetta società civile, è già finita. Ci hanno boicottato, ha spiegato l'ex PM, perché non abbiamo voluto chinare la testa di fronte ai provvedimenti iniqui varati dal governo Monti. Anzi, abbiamo denunciato tutte le porcherie fatte dall'esecutivo, con il sostegno del PD, a danno dei più deboli. Per questo Bersani ci ha buttato fuori dalla coalizione, ha giunto e di conseguenza fuori dal Parlamento. Dunque il leader non ha usato mezzi termini contro coloro che lo hanno estromesso dalla coalizione, ma allo stesso tempo non ha perso l'occasione per invitare il suo partito a sottoscrivere accordi programmatici con il centro-sinistra, a cominciare dalle amministrative di fine maggio. Ora tutti si chiedono, che farà Antonio Di Pietro? Rilancia il partito con più forza di prima, messo da parte l'esperienza non fortunata della rivoluzione civile, con la convinzione che Italia dei Valori possa lavorare nell'area progressista insieme al Partito Democratico, perché abbiamo 1500 amministratori in Italia e crediamo che questa sia un'esperienza che possa avere ancora spazio in Italia. Sarà il presidente della nuova Italia dei Valori? Con lo statuto si sta riverificando un po' il quadro complessivo di organizzazione, si pensa a un presidente e a una figura di un segretario politico, però sono cose che vedremo insieme nella conferenza programmatica di fine giugno. Ass Industria e CGL chiedono alla regione di aiutare le imprese a rilanciare l'occupazione, ogni centesimo disponibile sarà destinato al lavoro, la risposta del neogovernatore Paolo Frattura. Il servizio è di Giuseppe Lanese. Il tema del lavoro è stato spesso al centro della campagna elettorale per le regionali. Tutte le forze in campo hanno giocato questa carta come primo punto del loro programma. Archiviato il risultato elettorale, è tempo di trasformare in azioni concrete slogan e proclami. A chiederlo è la CGL, che si è rivolta direttamente al nuovo presidente della regione, Paolo Frattura. Bisogna ridare centralità al lavoro, non è un ritornello di circostanza, ma un'esigenza, ha detto il segretario generale della CGL Molise, Erminia Mignelli. Vogliamo tornare a discutere delle priorità di questa regione, ha aggiunto che negli ultimi anni non abbiamo mai affrontato. Per la CGL occorre puntare verso un vero e proprio piano per il lavoro. Ci aspettiamo un nuovo metodo di confronto con le parti sociali, ha poi proseguito Mignelli, che ha criticato il governo precedente per la mancanza di operatività e concretezza sul tema del rilancio dell'occupazione. Basta con i finti tavoli istituzionali, ha attaccato il segretario, che servivano solo come passerelle mediatiche all'assessore di turno. Non capita spesso di vedere sindacato e assindustria d'accordo sugli stessi argomenti, ma anche il presidente degli industriali molisani, Mauro Natale, concorda sul fatto che non ci sia più tempo da perdere. Le nostre imprese soffrono la crisi ogni oltre previsione, ha sottolineato, rivolgendosi allo stesso frattura. Natale ha chiesto anche regole certe e meno burocrazia per quelle imprese che investono nel settore ambientale. In Molise, ha spiegato il presidente di Assindustria, la situazione è diventata ormai insostenibile. I ritardi nel rilascio delle autorizzazioni, gli oneri amministrativi e i costi elevati previsti a carico delle aziende sono il risultato di anni di disinteresse dell'amministrazione regionale. Dal canto suo, il governatore Frattura ha fatto intendere che è pronto a cambiare marcia per aiutare le imprese e rilanciare l'occupazione. Ogni centesimo disponibile, che non abbia una destinazione vincolata dallo Stato, ha detto, sarà destinato a promuovere il lavoro e a sostenere chi lo cerca. Questo è il nostro obiettivo. Imprenditori, parti sociali e cittadini lo sperano davvero. È stata confermata per quest'anno la campagna saccarifera dello zuccherificio di Termoli. Sarà di transizione, come quella dello scorso anno, ma poco più abbondante. In questi giorni si procede con le semine primaverili e per luglio si darà il via alla trasformazione delle barbabietole. Se le condizioni meteorologiche saranno buone, fanno sapere rappresentanti sindacali. Ci attesteremo sui 300.000 quintali di prodotto per 6.000 ettari seminati. La nuova stagione di lavoro si concentrerà nei mesi di luglio e agosto. In questo periodo parte la manutenzione degli impianti. Quella in preparazione è l'ultima produzione prima della vendita dell'impianto locale. Il prossimo 21 marzo è prevista una riunione tra sindacati e amministratori dell'azienda e proprietà per discutere dell'avvio della procedura di mobilità per i 15 esuberi e dell'eventuale rientro al lavoro dei primi stagionali. Presidio dei lavoratori Carrefour davanti al comune di Termoli. La situazione critica sfuma anche l'ultima possibile trattativa. Ora si chiede l'intervento di tutte le associazioni di categoria e del nuovo presidente della regione Frattura. Sentiamo Manuela Iorio. Le promesse sono svanite! La mattinata in comune a Termoli è iniziata presto con un presidio di lavoratori del Carrefour che con fischietti e slogan hanno urlato tutta la loro rabbia contro le istituzioni, contro Chiglia e Illusi hanno detto soprattutto durante la campagna elettorale. Al momento non c'è nessuna azienda intenzionata all'acquisto e anche quella che aveva mostrato un interesse a visionare la struttura a Termoli non ci ha mai messo piede, si è già tirata indietro. I dipendenti sono esasperati, si sentono presi in giro e poi c'è anche la questione degli altri negozi del centro San Nicola che ormai senza piattaforma alimentare è in lenta agonia. Chiediamo una volta per tutte di avere un confronto interessante per risolvere il problema ormai che non è più soltanto dei lavoratori dell'ex Carrefour ma è di tutto il centro commerciale San Nicola. Da qui a un po' si genererà la morte clinica del San Nicola perché è un fatto quasi obbligatorio per non fare che questo accada che una delle ultime strutture commerciali importanti e nuove presenti sulla zona termolese vada appunto a morire è il caso che ci si incontri questa volta in maniera concreta anche a questo punto con le associazioni datoriali. Il vice sindaco Enzo Ferrazzano con delega alle attività produttive ha ricevuto una delegazione di dipendenti e rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno chiesto all'amministrazione di non rilasciare altre licenze prima di risolvere il problema del Carrefour. Sono stati persi quattro mesi perché oggi non è più che un tavolotecchio oggi c'è un presidio di tutti i lavoratori del Carrefour che hanno voluto far sentire la loro voce rispetto a un fatto che prende da dopo le elezioni non si parlava più del Carrefour di un centro commerciale che ormai sta morendo e volevamo sapere le risposte rispetto a delle notizie delle situazioni che il tavolo tecnico aveva espresso in particolare dell'interessamento di un'azienda che doveva sostituire il Carrefour molto interessata, almeno se nendo l'ex assessore Scasserra oggi prendiamo atto che questa azienda praticamente non c'è ha rifiutato Il gruppo che era stato contattato era Conad Adriatico che nello stesso Molise ha attivato procedure di mobilità e che aveva posto condizioni inaccettabili per un possibile rilevamento come quella di non pagare l'affitto al centro per quattro anni e come quella che il Comune avrebbe dovuto partecipare alle perdite di esercizio ora però c'è da fare in fretta e si punta a un maggiore coinvolgimento di tutte le associazioni Oggi abbiamo deciso di convocarci nuovamente come tavolo tecnico e nel prossimo incontro convocare il nuovo Presidente della Giunta regionale il Direttore dell'Assessorato al Lavoro col quale avevamo avuto l'incontro prima delle elezioni e tutte le organizzazioni che rappresentano il mondo del commercio perché tutti insieme possiamo valutare la possibilità di una ricerca della soluzione E' cominciata questa sera a Campobasso la verifica della tenuta politica della maggioranza di centro-destra che al Comune sostiene la Giunta di Bartolomeo Nel primo incontro, come previsto dal calendario degli appuntamenti in programma si sono visti i capigruppo dei partiti di maggioranza presenti in Consiglio Al termine della riunione sono stati indicati 5 punti programmatici ambiente, viabilità, cultura, centro storico e commercio sui quali incentrare l'impegno di governo per il periodo conclusivo della legislatura Su questi punti verterà il prossimo incontro che dovrà svolgersi tra il Sindaco, la Giunta e i consiglieri del centro-destra e quello sarà il momento per verificare se la maggioranza ha i numeri per portare a termine la consigliatura I tagli ai servizi imposti a Isernia dal commissario prefettizio stanno provocando reazioni sempre più pesanti in particolare c'è chi propone di tagliare il numero dei subcommissari per risparmiare e tenere aperto l'asilo nido mentre c'è chi parla di sprechi intollerabili come quello di abbonamenti gratuiti alle soste a pagamento Insomma, area di tempesta in un clima pre-elettorale già incandescente in particolare nel servizio di Enzo Di Gaetano Taglia ai servizi e aumento delle tariffe imposte area di tempesta al comune di Isernia La manovra del commissario prefettizio Vincenza Filippi sta provocando una raffica di reazioni sia politiche che sindacali ma andiamo con ordine cominciando dalle reazioni politiche dopo la presa di posizione di Carlo Veneziale del PD arriva quella di Tiziano Di Clemente del PCL che intima la gestione commissariale di non toccare i servizi sociali c'è poi chi come Albino Iacovone, un ex sindaco indica la strada la gestione commissariale formata da tre funzionari prefettizi costa 12.000 euro al mese se si taglia almeno un subcommissario si possono trovare i soldi per mantenere aperto l'asilo nido il pomeriggio su questo fronte da registrare anche l'intervento della regione che ha finanziato con un progetto specifico il funzionamento dell'asilo nido di Isernia e se la struttura venisse chiusa di pomeriggio come ipotizzato dalla Filippi quel finanziamento verrebbe revocato al comune e intanto c'è chi come Felice Antonio Di Schiavi del sindacato CSA che in un durissimo comunicato parla delle spese alleghe di Palazzo San Francesco come per esempio i soldi con cui verrebbero finanziati i servizi legali per Di Schiavi c'è un avvocato assunto al comune e non è giusto corrispondergli oltre lo stipendio anche gli onorari così come Di Schiavi chiede se sia vero che siano state distribuite tessere omaggio a diversi fortunati per non pagare i parcheggi nelle aree di sosta a pagamento insomma un fuoco di fila che sta investendo la gestione commissariale di Isernia dopo la decisione di tagliare i servizi e aumentare le tasse infine interviene anche l'ex sindaco Melogli che chiederà addirittura di essere ricevuto dal presidente napolitano visto che a suo giudizio si sta commettendo un grave abuso per l'ex sindaco non c'è alcun deficit si tratta solo di un'errata valutazione attribuibile all'ex commissario Tino Vardè tutto questo accade mentre le elezioni si avvicinano e nessun partito sembra ancora in grado di indicare una linea, un programma, un sindaco capace di trovare le idee per salvare Isernia il commissario al comune di Isernia con propria deliberazione ha adottato una serie di misure che se attuate metterebbero in ginocchio la già martoriata comunità di Isernia dirlo è il senatore del PDL Ulisse Di Giacomo l'aumento al massimo dell'addizionale IRPEF quello delle tariffe dei servizi a domanda la riduzione dei servizi offerti ai cittadini sono provvedimenti duri adottati in un momento di forte disagio in cui versa la nostra città ha aggiunto secondo Di Giacomo è comprensibile d'altra parte come l'intento sia quello di mettere a posto i conti pubblici ma bisogna anche pensare che riempire le casse del comune in questo momento significa svuotare le tasche dei cittadini tra due mesi Isernia sarà chiamata al voto per scegliere il sindaco e il consiglio allora l'appello che Ulisse Di Giacomo lancia al commissario Filippi è di soprassedere a queste drastiche decisioni e lasciare che sia la nuova amministrazione quella che i cittadini vorranno scegliere ad assumersi la responsabilità delle decisioni terremoto giudiziario a Campomarino dove sono finiti sotto inchiesta per corruzione e concussione il capo dei vigili urbani e un ex assessore della giunta Camilleri tangenti e scambi di favore in cambio di voti stando alla ricostruzione della guardia di finanza il servizio bufera sul comune di Campomarino dove un amministratore comunale un agente della polizia municipale e un dipendente regionale sono indagati per corruzione, concussione e istigazione alla corruzione la posizione più delicata è quella di Pasquale Carriero responsabile dei vigili urbani che secondo la ricostruzione della guardia di finanza si sarebbe fatto dare 800 euro da un venditore ambulante in cambio di un posto nel mercato estivo a Lido e avrebbe aggiustato le carte di un incidente in cui era stato coinvolto un assessore con lo scopo di avere un avanzamento nella carriera e ottenere la posizione organizzativa di vicario facente funzione dopo il pensionamento dell'ultimo comandante in cambio avrebbe fatto anche campagna elettorale per le eminenti regionali del 2011 in cui era candidato il vice sindaco dell'epoca che non risulta indagato per Carriero la procura aveva chiesto l'arresto ma il GIP non lo ha concesso optando per la sospensione di due mesi dei pubblici uffici il componente di giunta in questione è invece Alessandro Di Labbio dal 2011 anche consigliere provinciale è uscito proprio nello stesso anno dalla maggioranza guidata da Camilleri l'altra persona coinvolta è il fratello di un vigile urbano che secondo l'accusa poteva beneficiare della turnazione per il ruolo di comandante è accusato di stigazione alla corruzione l'episodio che lo riguarda è sempre collegato alla raccolta di voti per l'ex vice sindaco l'indagine è stata portata avanti dalla guardia di finanza e si è basata soprattutto sulle intercettazioni telefoniche effettuate nell'estate del 2011 il comandante della municipale Pasquale Carriero era stato anche interrogato sui fatti dal giudice per le indagini preliminari e si era avvalso della facoltà di non rispondere il suo avvocato ha già annunciato che giovedì farà istanza al riesame per chiedere la revoca della sospensione dal servizio Assolto perché il fatto non sussiste a conclusione del processo per la ricostruzione post-sisma di Guardia Alfiera il sindaco del paese Remo Grande insieme agli altri tre imputati del procedimento giudiziario l'assessorio Svaldo Catalano e Giuseppe Bellini e un tecnico esterno del municipio Lorenzo Tanzilli il collegio giudicante presieduto dal giudice Aldo Aceto ha deciso dunque di prosciogliere tutti e quattro gli imputati il PM aveva chiesto invece una condanna un anno e sei mesi 11 capi di imputazione a carico dei quattro a partire dall'abuso d'ufficio fino al falso la presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l'avvocatura dello Stato si era costituita parte civile chiedendo un milione di euro di risarcimento danni siamo riusciti a dimostrare l'assoluta correttezza e legittimità dell'operato degli amministratori di Guardia Alfiera in tutta la procedura dei contributi post-sisma erogati dalla Regione Molise hanno dichiarato i difensori del sindaco gli avvocati Fabio Del Vecchio e Giuseppe Ruta intanto sono state sospese le sanzioni disciplinari a carico dei 30 dipendenti dell'ASREM del Molise interdetti per due mesi dai pubblici uffici dal Tribunale di Larino dopo l'inchiesta sull'assenteismo condotta dai carabinieri del NAS di Campobasso la commissione disciplinare dell'ASREM dopo aver ascoltato tutti e 30 gli indagati ha accolto la domanda di sospendere il provvedimento presentata da Domenico Bruno difensore di alcuni dipendenti l'ASREM ha deciso di congelare le sanzioni in attesa del giudizio penale a proposito di sanità vi raccontiamo adesso la storia di un medico che prescriveva un farmaco particolarmente costoso al suo paziente ma la stessa ASREM gli chiedeva chiarimenti nonostante la cartella clinica non lasciasse spazio a dubbi la persona in cura hanno raccontato i familiari ha subito un doppio trapianto di pancreas a causa di una grave forma di diabete Sergio Di Vincenzo Più che arrabbiati si dicono sgomenti i familiari di un giovane residente in un paese della provincia di Sernia trapiantato di rene e pancreas a causa di un diabete mellito che negli anni gli ha causato seri problemi di salute la società di revisione della ASREM dicono in questi giorni ha chiesto un accertamento formale al suo medico curante perché ha prescritto un farmaco antirigetto ritenuto troppo costoso ragion per cui si è reso necessario un approfondimento su quelle spese ma i familiari del paziente non l'hanno presa affatto bene proprio ora che il giovane sta tornando a una vita dignitosa dopo tutti quegli anni segnati da una malattia che gli ha causato un'altra infinità di problemi sin da quando era ragazzino una richiesta del genere sa di beffa a maggior ragione perché dicono ancora i suoi parenti le spese sostenute per i cosiddetti viaggi della speranza che hanno portato al doppio trapianto non sono mai state rimborsate dall'azienda sanitaria eppure quel farmaco è importante perché serve a evitare crisi di rigetto così come sono necessarie quelle terapie per combattere le infezioni che attecchiscono facilmente su un fisico debilitato ebbene nonostante la cartella clinica non lasci spazio a dubbi dice la sorella del giovane trapiantato i ragionieri della asla hanno sentito puzza di bruciato mi auguro che questi accertamenti conclude non le danno la vita di mio fratello e l'onestà e la professionalità del suo medico curante ma la aslem minimizza la vicenda si è trattato solo di una richiesta informale fanno sapere dal servizio farmaceutico dell'ospedale di Sernia fatta solo per capire il perché di un consumo così elevato in ogni caso è stato tutto chiarito con il medico e il paziente continua a prendere regolarmente il farmaco prescritto e sono gli errori chirurgici la principale causa di richiesta di risarcimento danni nella sanità pubblica e privata seguiti dagli errori diagnostici nel pubblico e terapeutici nel privato è quanto emerge da un rapporto presentato a Milano che ha esaminato 95 strutture sanitarie pubbliche e 52 private dal 2004 al 2011 un fenomeno che comporta ogni anno alla sanità pubblica una spesa di 3.410 euro di valore assicurativo per ogni posto letto l'importanza della scuola in ospedale e dell'istruzione domiciliare per i bambini e i ragazzi malati di questo si è discusso durante il seminario formativo che si è svolto alla scuola elementare Francesco Dovidio di Campobasso e particolari nel servizio di Marcella Tamburello Anche in Molise ci sono due nuove realtà che ormai da alcuni anni si sono sviluppate su tutto il territorio nazionale per aiutare i bambini e i ragazzi ricoverati in ospedale a non perdere ore di studio si tratta della scuola in ospedale e dell'istruzione domiciliare progetti importanti voluti dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca in collaborazione con gli uffici scolastici regionali A livello nazionale contiamo circa 100.000 ragazzi che in ospedale vengono seguiti dai nostri docenti che sono in pianta organica in ospedale e è nata da lontano la scuola in ospedale perché inizialmente tanto tempo fa cioè negli anni 50 noi vedevamo che i ragazzi che si ammalavano si disperdevano abbandonavano la scuola quindi è stata questa riflessione che ci ha fatto comprendere quanto la scuola potesse essere non solo lo strumento per aiutarli a non perdere la scuola ma soprattutto a non perdere la speranza nella vita e nel futuro A Campobasso l'ufficio scolastico regionale insieme alla scuola elementare Dovidio di Via Roma con il patrocinio dell'ASREM ha organizzato un seminario formativo di due giorni per illustrare l'importanza della scuola in ospedale Negli ultimi anni abbiamo incrementato l'approvazione dei progetti di istruzione domiciliare che in pratica aiutano tutti quegli alunni bambini ragazzi che non possono frequentare regolarmente la scuola per gravi motivi di salute e quindi con l'istruzione domiciliare noi inviamo consentiamo ai docenti di andare a casa degli alunni e loro possono seguire le lezioni a distanza anche con la classe di appartenenza in Molise il polo didattico della scuola in ospedale è attivo da alcuni anni nel reparto di pediatria al Cardarelli di Campobasso è una realtà didattica di una pedagogia differenziata dove il ragazzo che è colpito da patologie abbastanza grave può essere seguito a casa dai docenti della propria scuola Carmine di Domenico si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Toro faceva parte della minoranza e la sua decisione ha spiegato in una nota è stata maturata nel tempo una vicenda della quale si è parlato molto nei mesi scorsi e della quale si è interessata anche la stampa di Domenico infatti è stato trasferito per lavoro a Benevento e ha detto non poteva partecipare alle sedute del consiglio convocate di norma alle 18 nella lettera infatti ha sottolineato di aver chiesto più volte al sindaco e alla maggioranza di posticiparle ma senza esito e per questo ha deciso di dimettersi perché ha concluso gli sarebbe stato impedito con motivazioni pretestuose di esercitare il mandato e di svolgere quell'azione critica e di controllo affidata per legge alla minoranza è stata presentata oggi in provincia a Campobasso la giornata della mobilità internazionale giovanile in programma il 21 e 22 marzo nel capologo di regione a Termoli diverse le aziende che hanno aderito da tutta Europa per offrire opportunità di lavoro ai giovani il servizio 350 gli iscritti da varie regioni fino a questo momento per la giornata della mobilità internazionale giovanile organizzata dalla provincia di Campobasso il 21 e 22 marzo una manifestazione che punta a incrociare domanda e offerta di lavoro destinata ai giovani all'iniziativa hanno aderito 15 paesi europei e diversi imprenditori esteri le iscrizioni ai colloqui di lavoro si possono effettuare online sul sito della provincia di Campobasso il 21 marzo dalle 9 alle 17 sono previsti gli incontri con i rappresentanti delle aziende partecipanti nella sede della ex gilla a Campobasso il 22 invece la fiera del lavoro si sposterà a Termoli nei locali dell'Ipseo a Federico II in via Foce dell'Angelo sempre dalle 9 alle 17 l'iniziativa è rivolta a tutti gli alunni dell'ultimo anno delle superiori agli studenti universitari ai laureati ai tecnici iscritti negli ordini e collegi professionali e a tutti quelli che hanno voglia di compiere un'esperienza formativa all'estero tra le figure professionali ricercate ci sono ingegneri tecnici specialisti informatici addetti all'ospitalità e alla ristorazione ma anche figure sanitarie e nel campo dell'animazione e turismo la conoscenza della lingua inglese è necessaria per sostenere i colloqui così come richiesta la presentazione di un curriculum in italiano e in inglese un evento unico in Italia lo ha definito la provincia di Campobasso sarà un evento importantissimo forse unico in Italia siamo la capitale d'Italia per quanto riguarda il lavoro lancio del lavoro quindi l'opportunità per i giovani quindi un appuntamento valido io faccio l'invito un po' a tutti i ragazzi di partecipare perché il nostro dovere e compiere le nostre istituzioni è quello di invogliarli sempre di più dargli le giuste motivazioni alla conoscenza della lingua alle esperienze trasfrontaliere quindi avere questo importantissimo know-how interconturale che per loro è forte deve essere una base forte e poi ci saranno queste opportunità di lavoro quindi opportunità di tirocini stagio opportunità di lavoro importanti aziende che verranno qui a Campobasso tre giorni valide importantissime la giornata della mobilità giovanile sarà preceduta il 20 marzo dal primo incontro dei giovani del bacino del mar Adriatico in programma dalle 9.30 nella sala della costituzione della provincia di Campobasso in chiusura vogliamo lanciare l'appello per un cane di nome Marley come vedete nella foto si tratta di un labrador puro di 4 anni che si è smarrito a Forlì del Sannio più di una settimana fa chiunque ne avesse notizie può contattare come sempre la nostra redazione è tutto termina qui anche l'ultima edizione del TG grazie per averci seguito e arrivederci